Coltivare la propria passione, proporsi traguardi sempre più ambiziosi, investire costantemente nei percorsi di ricerca e innovazione. E con questo spirito, che ho fondato nel 1981 a Rubiera, nel cuore della Motor Valley, ISB, il marchio verde che ha rivoluzionato il mercato mondiale dei cuscinetti. Oggi finalmente potete contare su un'impresa italiana, garanzia di affidabilità, sicurezza ed ampiezza di gamma. Tutta la qualità è garantita da un centro tecnico all'avanguardia. Tutti i prodotti sono pronti a stock. Tutta la professionalità e le competenze della componentistica rotativa e lineare sono al vostro servizio. Non accontentatevi quando potete avere tutto.